Il Comune di Caltanissetta riceverà un finanziamento pubblico di 419.124 euro nell'ambito dei progetti del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza. Lo ha comunicato il Sindaco Roberto Gambino sulla sua pagina Facebook ufficiale. Con i fondi ottenuti sarà possibile trasferire alcuni servizi in cloud, dando la possibilità ai cittadini di accedervi online, in modo da sveltire le procedure. Nel dettaglio i servizi che verranno migliorati passando in modalità online riguarderanno la gestione del protocollo e dei sistemi documentali, la gestione dei permessi di transito nelle zone a traffico limitato, l'edilizia residenziale, l'emergenza abitativa e altro ancora. Soddisfatto il Sindaco Gambino che ha affermato una bella notizia per Caltanissetta e un passo in più di cui vedremo presto i benefici.